Siamo qui a un Cagliari Parma succosissimo ne approfittiamo per la pausa mondiale non potremo fare partite della Juve ma faremo qualche partita dei mondiali sicuramente magari big match e ci scusiamo se non siete stati molto presenti a parte per colpa mia per mancanza della controparte che è andata a funghi la mia seconda passione sono i funghi quindi ragazzi il periodo dei funghi da quando è che si va ad agosto? da quando è che parte il discorso? si parte il tè, i penne, l'olio tra quattro mesi insomma non c'è neanche a nessuno lo perdoniamo comunque ragazzi adesso siamo qua e godetevi questo Cagliari Parma succosissimo la serie B insieme a te o giallo-blu combattere Scusate eser pazzo scusate non è un po' che siamo male TSO adesso ragazzi partiti Parma che non deve può dare per 30 minuti per치 una partita lunga non so se sarà facile per me devo modificare il mio DNA perché sono partite molto lunghe per me comunque è così vedetevi conto mi sta dicendo che sa solo podare solo podare sappiamo solo podare diciamo che noi siamo aggressivi noi vogliamo poter essere aggressivi ci sono anche dei giochi simulati perché lancio ecco che poda ah boh comunque nel gioco simulato come voi sapete appena podi come avete visto appena tocchi uno giallo e quindi non puoi essere aggressivo come vorresti no anche qua il dedo mica fa posta ho proprio sparato il cazzo lo ha dietro terrificato io ho capito però ogni volta che ho fallo è giallo e quindi capite bene che qua c'è da stare molto molto attenti cosa che le cazzo reale non è così insomma cazzo nel carletti tira di prima no è già un bel giardino dopo un minuto e cinquanta то e co ba um co ba um cow b ba ba va ba ooh co ba o cos'è to scubb dalam caso sono prescritto in casa stiamo di ragazzi ve lo dico vietato ho detto che vietato bravo non fare fallo non so sa come hai fatto torno subito tutti indietro ragazzi chiamiamo tutti all'ordine tutti andare indietro tutti subito bravissimi bravi bravi tecnica 9 nasconde il pallone vasquez no non c'è vasquez purtroppo non c'è è come se ci fosse un parmarcigno concentrato sulla parte guarda che schifo ho appena detto porta sfighe da dio ve lo dico non ci sono spiragli che vago appena poi non devo stare fitto miracolo si salva il rotto della cuffia si però devo stare zitto perché è incredibile appena dico arcigni chiudono bene eccetera ve lo dico subito c'è mancato niente niente fama che si salva al quinto minuto knob bellissimo si va stop and go attimo no questo è uno schifo no è andata bene cambia il gioco però è ora no possiamo andare che ho fatto un fallo terribile arbitro non è successo nulla sbottonato via aggraccivo il palma aggraccivo ci vogliamo fare podare niente ma guarda che incredibile niente gli ha detto non gli ha detto nulla è un palma che non sbaglia e no stavolta non sbaglio dobbiamo momenti di sbagliavo qua boom ah mi porti io vorrei un bel giallino e vabbè oggi sta eh ah vacca giallino no giallino da giallino ma giallino per primo ma fai schifo ma fai schifo arbitro ma fai schifo ma fai finta che non è successo nulla ma ti rendi conto quello che è successo bravissimi concentrati si riparte il contropiede pauroso qua qua c'è un buco terribile ve lo dico e infatti c'è ma non è perché c'è il buco c'era il buco vede il culo tuo adria benediccia cario di benediccia non si offendono l'etnia adria benediccia guardate qua è l'origine che c'era il buco figa due impallati una filtrante favoloso mette in mezzo subito cagno è siccicciato che schifo guarda guarda dove tira guarda da dove tira qua si vede bene tira da un metro praticamente tempo di reazione non esiste ed adria ho fatto bene a metterti su altro che inglese fatto bene a metterti su dai palma che ora deve tenere concentrato partite lunghe diciamo il decimo 1 0 c'è ancora tantissimo da giocare un bella munizione per renderlo ne facciamo fare un altro magari calma calma lascialo andare dai concentrati va bene va bene questo è il contropiede si parte già il contropiede si allunga e si rallenta si viene dietro all'uomo si porta dietro dalla squadra dai che siete concentrati si siete super concentrati ehi il vaga sto trovando un micile abito il vaga niente credibile ma siamo concentrati siamo ancora qua sul pezzo guarda in due in due collaborazioni il vaga che figa non si credo venga che non abbiamo preso la palla ma comunque c'è una collaborazione incredibile sono concentrati più dietro partite secondo me sai che sono anche in vantaggio oh chiudi lì ho visto l'uomo lì chiudere eh sì chiude la via di passaggio ci mette davanti aspetta il fallo non glielo fanno fa una cazzata niente prossimamente la devi via prima però eh ho messo la. tu. qui che stai! ti ammazzo! e che cosa scelga! devo fare l'elegatorio ragazzi dispraventi giocatorio bello! duo fai sentire quei tacchetti del cavolo! dai! fungeti i tacchetti! mi dice il giocatore che gli dice così di questi fallacci che fa devi pungere mamma hai fatto fallo un bel giornalino per il tentativo sul posto di far fallo ci sta, ci sta, su Buffon il fallo la lontana Buffon viene portato simulazione di Buffon perchè c'è Buffon che lo metterò dentro Colombi vabbè facciamogli fa' pur tempo ormai poverino ti ha salvato una palla sulla traversa buttata prima vabbè allora dai si merita di stare in campo per questo primo tempo lo terrò in campo niente questa è una zonata va bene dai raga Duri concentrati ho detto concentrati stai dietro dai a massa a massa si inserisce molto bene scambia con i compagnini eccolo qua opla tutto di prima questa squadra che bel lancio e arriva sul porto di compagni niente non ci sono i compagni ma cavolato non è andata bene vabbè vabbè siamo ovunque siamo ovunque siamo ovunque bel filtrantone dai che ci arrivi ci arriva no invece è mancato poco comunque l'hai mollato figa ti riesco da da lì a mollarlo così no è vacato molto bene però scusa 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 ho detto scusa ma ho detto scusa ho detto scusa ho detto scusa e mi grazie Bernabè mi grazie Bernabè sì che me lo grazie me lo grazie te l'hai detto falletto ma questa è una grazia questa è una grazia mi ha graziato abito ti ringrazio ti sarò sempre debitore per aver ringraziato Bernabè va me ne fate mezzo siete in calo no eh concentrati un po' di più eh così va bene questo è un bel anticipo che ci fa partire bene no dai fai passare quella palla svegliati bravo e va come fallo oh boh che capabilità 10 però e va che schifo però fallo terribile un parma perché ora recupera che non ci sta a perdere il pallone questo parma è concentrato scambiano indietro chi ne palla chi è la diabola tu dove siete chi state nascondendo puttana dai non facciamo cazzate stiamo ritrovando dove siamo le posizioni bravo e va che che roba non sto trovando le posizioni chi la trovo però e va ma fai schifo eh chi è fallo lo sputta non sputtane lo spintone lo spintone lo spintone lo sputtane con chi vuol certo ho visto ma che mi schifo dai che la prendi e io vengo in aria io mi avevo già visto che rubavo un pallone d'oro lob piccolo è nostra si siamo noi che ci svegliamo la mattina presto e fallo ma che schifo lo ammazzo lo ammazzo via vabbè non fischia mai non fischia mai il pubblico mutolito non fischia mai non fischia mai di tutto devi fare un tranche qui ti dà un bel rosso e boh no cazzate no eh tranquilli sereni così bella lunga bella potente sì ma potente ma cioè non sulla traiettoria figli dove c'è lui cazzo svegliati così va bene che ragioni su adesso ma spizza bene lì coglione e va che roba che vomito figa che vomito ma cosa pensi nella testa ti sei svegliato adesso figa schifo vai dai spingili camarada drissa drissa quelle gambe drissa camarada numeri tottino tottino inventa tutto lui tottino ma guarda copre benissimo guardate qua fa tutto qui guardate qua aspetta ingenuo difensore poi non fa più niente bomba terrificante non piazzata una bomba finisce male per i cagliari per adesso due per a zero quando siamo giunti al ventisesimo del primo tempo ragazzi niente di deciso ma solo un bel rossino potrebbe a voi che ci postano anche due a uno speriamo di no concentrati 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 l'allenatore ora si calma un po' con la voce perché il 2-0 è un po' più sereno credo che durerà poco ma ci proviamo belli belli come si trovano ragazzi ma mamma la vacca che sfiga però la vacca è l'ora ma la vacca è l'ora sta pudale è l'osso è l'amoroso avete capito avete capito perché non si può pressare è l'amoroso perché basta che sfiori la X e viene ammordito per una semplice trattenutina e rischi di finire la partita in due praticamente ecco perché non posso essere ne stesso con partite lunghe perché la distinzione tra i falli e il pressing è quella ragazzi non si può fare nulla che bel numero è un bellissimo numero in area vorrei rivederlo questa è tecnica pensato guardate pensato subito stop and go evitato poi purtroppo tirato invece che fa qualcosa di meglio vabbè ragazzi veniva bene vincere bravo uno schifo no purtroppo buono e qui ha rischiato l'Oretti ma ha saputo di entrare sul pallone bel numero di l'Oretti poca pisa lì si bravo un bel press furioso no che schifo è un po' che momento l'aprendo ottimo il Cagliari ragazzi è è impallato proprio non ce la fa più bruttissimo guarda guarda le staff da dietro c'è qua c'è un altro giallo che vola poi finisce in due perché si è munito Paoletti vuoi buttare la mica fuori è finita è finita è finita la partita pisa ragazzi sarà golleata a Parma adesso da dietro vabbè da dietro d'altro ma non puoi adesso non so cosa puoi inventarti caro il mio ragazzo in 10 per 60 minuti sarà un Parma che si diverte ooooh provo il golasso niente non va ragazzi ora siamo sereni cambio vai chiama di gioco qua secondo me partita è finita ragazzi Pavoletti è andato Parma che giocherà in scioltizza con due gol di vantaggio secondo me non c'è tripo per gatti una cosetta in approfitto intanto che 19 minuti di registrazione caro Dello è vero che full hd è 30 frames che si è però vabbè stiamo facendo delle prove di registrazione ok posto devi fare quel cos'altro non sarai mai a posto c'è uno in meno è dura è dura molto abbiamo la vittoria in tasca approfitto per bere non guardate la marca perché non si può sponsorizzare si butta per terra che roba brutto oggetto è inqualificabile quello che fa maialetti 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 inqualificabile rifiuti ma dopo li raccogli non raccogliete pieno di rifiuti voi non vedete ma è pieno che cazzo dici non si sputtana ci andiamo? ci andiamo è finito di fare questa informazione due ore per aspettare la gente dato è perso non ce la potrai mai fare ci potrai mettere su 20 euro che non ce la fai te che ti battere te ti ha vaccone ripatta la partita 2-0 uno in meno Cagliari per me è spacciato ve lo dico Tutino l'autore del gol si invola a quella superficie è finita veramente guarda le staffe è finita qua c'è un rosso sarà un giallo minimo un rosso diretto o giallo dai vediamo la decisione non perdiamo tempo vediamo quella decisione dell'abito giallino c'è sicuro e va che è la grazia va bene ci prova ci prova le orecchie niente ristorodiamo in faccia i giocatori con delle punitioni in faccia brava fine oh la sarà dura sarà triste per il Cagliari questa partita chiamare amici sardi è dura no scusa no scusa 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 no scusa ma non volevo l'ho fatto trarmi prima vediamo non mi munisce grazie bravo ottimo salvataggio bravo l'autaro valenti e si oh oh orecchio si dice vabbè parma che ora si vede che un attimo sta respirando perché può gestire chi era giocare no non è andato che si è fatta minata parma può gestire con l'uomo in più è tutto facile no mamma mia arrivo come io no non ce la fa dai parma voliamo un po' lo stesso dai ravviviamo queste partite che quel mister del Cagliari poveretto è depresso no ma non è finito ma no assolutamente dai vedrò un tiro in porta in 60 minuti se li vedo non è assolutamente finito non è assolutamente non è assolutamente portorio parma su tranquilli avete visto si gestisce facilmente si va avanti facciamo qualcosa dai per andare beh vabbè dormo vai tranquilli sono una dormita ci può far del Cagliari raga brutta 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 facciamo innervosire gli avversari brutta brutta facciamo innervosire gli avversari brutta brutta giovanne ma poi colpiamo all'improvviso poi colpiamo con un tiro da quarto ad esempio mh vabbè che schifo è bello che si andava avanti secondo me non mi veniva in contro più nessuno cioè i giocatori non si erano capiti stavano andando centralmente dritto dritto cost to cost vabbè dai chiudiamo sta partita ragazzi facciamo 3-0 così tutti a casa e boh finita dai sono tutti fatti soffrire più di tanto non è giusto dai farli soffrire noi siamo umani non vogliamo far soffrire ai giocatori avversari non c'è nessuno non c'è nessuno qua non marca nessuno pure sveicola la rubo non la rubo più fallo è fallo non c'era neanche il pomo del gioco che schifo non c'era neanche il pomo del gioco è schifo ottima palla non va qui che parata è dì vedi che era un super save porco zio parata fatta col bastardo lì che paratino e qua l'abbiamo riaperta ma sì non ciò 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 che stiamo è secondo tempo l'ha pareggiato si guarda quel cazzo adesso andiamo a fare il 3-1 è secondo tempo l'ha pareggiato ragazzi è colpa solo nostra che non stiamo più marcando perché qua non si può beccare l'infilata così perché la solita infilata non è un'azione la solita infilata e abbiamo preso perché non abbiamo marcato ragazzi c'era un giocatore con due difensori minimo quindi sveglia tra uno e poi si giochicchia ancora si riparte ora concentrati cattivi come prima a farsi fare fallo anche concentrati voglio vedere il recupero palla voglio vedere il recupero palla qui non si schiazza più è vietato farli pareggiare roba del genere assolutamente vietato per non cadere in problematiche no ragazzi non si può hanno fatto un tiro un gol no 4 tiro è strano no non è strano non si dice niente poi all'inizio forse li avevano fatti dopo è tutto espulso vado così vai vai grazie ora faremo il 3-1 parma che così poi dopo basta chiusiremi in barca perché non si può prendere gol in 10 contro 11 cioè in 11 contro 10 non si può se non non marcando l'avversario infatti per farmi in 2 marcarlo non fare falli concentrati gran numero in difesa così e si riparte 1-2 triangolo alto perfetto e barca che si va bene andiamo dai niente tarallucevino non è neanche corne non è corne a chi? no sfigatissimo il giocatore del Cagliari in questo caso dai ti aggredisci ti aggredisci l'avversario o no? va che carola cosa fai? che fa con tu usciro? ma c'era rischia di far gol da posizione impossibile mamma mia ma che cagata ha fatto questo guava ma cos'è? ma cos'è? qua meno male che l'ho chiuso con un valenti fighe da lì pensavo che faceva gol fighe defilatissimo i giocatori giocatori vuoi che ti prodano? ti prodano e ti faccio uscire in barella vai vai 191 e 10 in che età? no vede si può anche darsi ma non devo farlo se no mi taglio le gambe da solo penso che ci sarà il time 9 secondo me perderai la testa prima o poi ma anche è più lungo ragazzi basta e fa cazzate ce ne fa il 3-1 3-1 li farà affondare psicologicamente quindi bisogna fare solo il 3 o un'altra bella espulsione che allora proprio vabbè ho fatto davanti a posto perfetto qua veramente perfetto qui non c'è più nessuno ragazzi no niente dai ma chiudilo idiots chiudi tornare tutti collaborazione ne voglio bravissimi oh bella ottimo fraseggio di prima ottimo vacca lo vuoi far tirare abito cos'è sto schifo schifo figlio cosa scherzato porca vacca è un assedio l'arma bianca cranio cranio ti sfondo il cranio con una pallonata con una pallonata no ma ovviamente calcisticamente parlando ok siamo così ma qua è da solo tranquillo ma mi hai potuto ci tuffa balla balla ma va bene tanto bene ma mi sono tuffato sopra sporchissimo sporchissimo è giro arrivo arrivo no c***o fa cosa lì oh da è in aria si gira benissimo accomodati buon c***o sì sì finché non hai rischiato mi vado a girare in aria che era un piacere ciao eh no questa è una roba sta bene oh da prendelo e vacca che schifo è lo punti bravo bravo si ma più preciso bene male c***o pazzesca bella in due collaboration è fatta è fatta no non è fatto niente che so guarda dio lo tengo dietro cross in mezzo pericolo non va e vacca dov'è e va bene su ma tira bene azione che tamburegio al limite del tamburegio che cosa ne può dare però mi fa che che roba è no mi fa che roba è eh tre basta con l'esercizio basta con l'esercizio e come due basta con l'esercizio ha un contropiede c'è dei coglioni mi hai cantato vittore dopo questo non è tì questo è un cagliari no non è possibile non è possibile perché guarda stupidi così sempre contropiede oh figa in mezzo a tre guarda che roba ragazzi reagire reagire perché qua perdiamo se no addirittura reagire subito non figa ormai non vi perdono più avete fatto una cagata atomica siete in superiorità dovete farcela a comode come va ci ho tirato una bomba atomica ho caricato il massimo senza cognizione no non si può vabbè ragazzi praticamente si è visto che possiamo fare quello che vogliamo in aria basta volerlo e non fare cagate difensive dai ragazzi il morale è a terra per questo errore incredibile però tiratevi su perché non ha senso quello che abbiamo visto è senza senso ma dai ma questo e fa che corre in capo questo qua e fa che no in capo li ammazzo grandi bravi no no voglio ammazzarlo bravissimo chi ti ammazzo ma no ma che a chi o a contropiede bella o a contropiede no ma figa il contropiede ho detto bravi bravi merda schifi voi i vostri gol di 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 contropiede atomico vai su sveglia sveglia eh sì è facile cosa fai? è il PRETO rubetti 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 di merda figlio della bitfam schifosi io ho giocato guarda cosa mi sbaglia questo qua Questo qua fa la vacca da io! Ma che figa! Ma che figa è questa qua! Che schifo! Benito proprio che avevo smetto prima! Ma che schifo! E ci stava questa roba qua! Ma che roba è argognosa! Ma che roba è argognosa! E' così ragazzi il calcio è così! E' così! Non si può! Non si può! Se no devo bippo! Se no devo bippa! Se no devo bippo io ti bippo! Va bene ragazzi! Ora non si scherza più! Si deve fare il 4! Ottimo! Si fa il 4 e basta! Tutti a cazzo! No! Quello schifo di culo lì! Basta eh! Torna su quello lì perché! Lascialo andare avanti! Lascialo andare! Va bene! Va bene così! Abbiamo gli uomini! Per poterlo fare! Ma che roba però! Guarda dove è! Ma che roba! Ottimo! Anulla! Bravo! Bravissimo a annullare! Ce l'ho fatta appena! Ottimo! Il quadro piede è pazzesco qua! Eeeh! Le palle! Ah! Non ho fatto niente! Che giustizio! No ragazzi! Oh dai! E' il momento del cappò! E' il momento giusto per fare il cappò! Fusciè sta roba! ho detto capò oh con terra aria ragazzi è il momento del capò dai, ci sta, un bel capò dai, ci sta schifo potà? dai, massa ha massa non ci sta la violenza ovviamente è sempre la violenza calcistica si intende lo sapete cosa fai? vuoi fare un togola? come quella crudene che piange oh ma va a fare il gulog il gulog ha trovato ma sentite devi andare in qua boh panchina panchina per buffon dopo questo qua panchina guardiamolo bene ci sta la panchina ragazzi qua ci sta già cagata e qui guardate la panchina che ci merita boh è panchina sarà un bel tiro ma sei uno scemazzo fa una roba di zebra e basta inguardabile non lo voglio vedere salta è una reazione di 10 vai cagare vai cagare vai cagare vai cagare vai cagare guava di colombi guava di colombi attenzione un altro cambio poi il palma non ci credo attenzione chi entrerà chi dà i scommessi già te lo scommesse ma scusa ma dov'è? dove sono gli altri? ma non c'è possibilità di avere inglese? scusa ma cosa è successo? non rispondere è perché sei al tribuno ormai non avevi messo il palma va vabbè niente ok provieni così dai esci rotondo 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 sessantasettesimo 3 a 3 Bufan cioè va fuori a fare un giro punito dall'allenatore giustamente e niente il palma ricomincia imperterito il cuore il caldo eh va bene ti basterà quello però ti resterà solo quello di queste partite il cuore bravo tuttino tuttino fallo però lì su tuttino niente non mi tutela non mi tutela ottimo però recuperano è fatta è fatta ma ma come hai fatto non puoi entra no io non lo so io non so come hai fatto ma non non farlo quel gol senti non c'è arrivato ma vacca che roba non c'è arrivato sarà che non c'è arrivato ma eh vabbè ma qui dai chiudi oh dio no bene la valenti sei il più valente di tutti i giocatori e vacca si spinge fine che è è fallo vacca niente ma è il fallo di prima niente dai andiamo avanti che poi lo voglio che venga punito e poi quando finisce la zirone piace ma vacca che schifo fai ma cosa fai venili tra lui si usate di coglioni tornare subito eh dai la pigi questo è un bel fallo Pedro vai a letto Pedro vai a letto niente munizione grazie eh si primo fallo niente è Colombi che ci salva te l'ho detto che ho fatto bene mettere su Colombi l'ho detto che cagate che faceva buffo Colombi si riscatta ha penetrato Colombi bravo che va avanti avanza bellissimo vai angolo voglio si ma che non c'è ma che incredibile è l'angolo lì è che lo sbaglio si ma che roba vi svegliate si ci siamo con le palle è il momento di chiudere tacco bellissimo no è una cagata questa dai dai che fa la cagata come poi la fanno sono troppo sotto pressione la devono fare come poi la faccio io mi sa bravissimo veramente bravo controllo bello bravo bravo e fanno ma che roba schifo manca esci qua è facile bravissimo Colombi stende anche i propri compagni bravissimo si vuole far vedere dal misto spizza lì bravissimo anche tu ci sei col cuore è fatta con il cuore con il cuore bravi ma come cazzo ha fatto stavo per fare un tiro al bigliardino bravi bravi bettati questo che non c'è nessuno dai vai e va che lo ammazzo no ragazzi non perde la testa qua finché il contropiede qua tenere tenere ora si è avvicinato troppo boh chiudere e va che roba ammazzo via si riparte è fatta è fatta la prendo con questo allora c'è quello di sparta e va che roba dai davanti dai ma che credibile vabbè falli uno dietro l'altro un podone totale ragazzi è il 77esimo dobbiamo segnare bella lob pizza niente ma che gaiota dai chiudi ma c'hai le palle no eh si questo ce li ha questo ce li ha lo sotterra e spazzano su bene pizza bravo bene dai fagli vedere che ci sei e fagli che lo vuoi no ma non è possibile non è non è possibile eh no diagonale perfetta e si va e si va e si va e fagli incredibile vabbè dai che fanno la cazzata dai che la fanno la fanno poi la fanno mi sono convinto fagli che roba è no sono ghiacciato sono ghiacciato per il Nelo che mi regala anche lui un autogol di Cepitelli poverino veramente mi sta difensendo per il Cagliar ragazzi lo ammetto perché questo è un autogol ma è pazzesco ma è pazzesco invece che un retropassaggio si sta a fare un tiro terribile il portiere lo manda a far culo direttamente e fa bene perché qui invece che un rinvio ha fatto un tiro bellissimo l'incrocio dei pali il portiere lo manda prima lo manda a far culo qua c'è il calcio scommesso calcio scommesso per forza all'81esimo un altro autogol ragazzi è incredibile ci regala un sogno Sceppitelli no qua c'è il calcio scommesso concentrate ragazzi perché il Cagliar veramente con i 10 uomini ha fatto una cosa meravigliosa comunque io ve lo dico ammetto che il Cagliar ha fatto una partita meravigliosa il calcio è questo il calcio è questo ho fatto un autogol io ne ho fatto uno anche il Cagliar che ora cercherà di non beccare il definitivo gol ma il morale è sotto i tacchi non hai fatto un altro calcio no neanche uno bravissimo bravo mamma mia meno che ho fatto uscire perché non mi aveva neanche fischiato fallo mi schifo probabilmente non c'era il fallo non viene così no bravo bravo ragazzi adesso ho fatto il cazzo di sferda questi peloni di merda qua buttala là perfetta bravo sto bello bravo mi anticipo veramente bello quello lì è stato veramente bello una bella giocata devo ammettere che è stata una bella giocata questa è mia adesso adesso riconquistiamo campo dai bella cagata complimenti no tienilo vacci insieme bravo bravo accompagnano l'uscita un pugnato l'accompagnano l'uscita è bravo viene sbuttonato però qua ho vedimenti magari numeri e me la riprendo ancora e me ne vado e mi trancano e me la riprendo di nuovo allora cerco il fallo bravissimo cos'è no no veramente fuori gioca incredibile per un millimetro ragazzi portiamola a casa ottanta e cinquesimo non c'è nessuno per nostra fortuna non c'è nessuno voracini che si aprono e va che non c'è nessuno mmm colombi eh non è un gol di sì insomma Pedro ha fatto tutto il possibile poveretto Pedro si batte fino all'ultimo questa volta è un gol di azione di Pedro no qui è un bel colombi comunque era già uscito un po' quindi ha chiuso un po' lo specchio perché era già fuori porta colombi alza le braccia del cielo lo ringrazio i miei propri tifosi ottanta e settesimo ragazzi cagliare la rende un baggio parma incontro a piedra bella va bene che facca interrompe l'azione di parma no lo viene tutto rotto e po' da l'ambito perdona l'ambito perdona ragazzi però controvi le parma no niente non c'è più po' da bravissimo la parma che sa che di poter avere qualche munizione in più senza problemi 1-2 poterà più purtroppo ragazzi ci dispiace ci dispiace siamo andati non siete da vedere purtroppo è capitato è bene è bene che non può non esulta nemmeno perché è così ha tirato una bomba il portiere ha fatto quello che poteva non c'è nessuno Cagliari che comunque è molto onorevole devo dire ha fatto il massimo va bene Cagliari hai giocato bene parma che non esulta perché così parma che si distrae ma che ora poterà mi sa che cosa cerca di fare Joao cerca di fare una roba impossibile commuovente si commuovente Joao commuovente tutti ecco qua lottare anche la roba la foto di un idiota che si è fatto buttare fuori e uno che ha fatto un po' due volte a reddito eh si è morto è morto no l'ho ucciso l'ho mirato bene l'ho ucciso c'è un cambio forzato pubblico ammutolito pubblico del Sant'Elia ammutolito ma che alla fine si lascerà andare ad applausi ma per forza ma per forza ma per forza ottimo schifezza e si chiude sono applausi sono la sfortuna il fatto applausi 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 autogol autogol applausi voi avete buono tre gol della squadra in dieci non è bacio di culo bene tre gol allora un saluto tutti ciao ragazzi è andato così va bene chiaramente l'uomo in più 21-13 va bene l'uomo in più comunque è un ottimo caso adios adios